Siamo davanti all'altare domestico di una casa attualmente oggetto di scavi per il miglioramento delle condizioni di conservazione. Sul altare sono stati trovati i resti dell'ultimo sacrificio qui in questa casa, quindi fichi, datteri, bruciati, il resto di un uovo, ma nello stesso ambiente abbiamo anche testimonianze in varie parti di iscrizioni elettorali, iscrizioni che normalmente appaiano sulle facciate delle case e qui troviamo un caso raro, seppure non unico, all'interno della casa, quindi testimonianza del fatto che si faceva campagna elettorale anche all'interno della casa e sicuramente non è un caso che qui, nello stesso complesso, si trova anche un panificio perché sappiamo quanto fosse importante anche ai fini della campagna elettorale convincere all'epoca l'elettorato anche tramite attività di munificenza e il prezzo del pane era una misura su cui molti candidati cercavano di incidere. Abbiamo un'iscrizione che dice il nome del candidato, Aulum Rustium Verum, quindi nel accusativo questo signore, Aulo Rustio Vero, come edile, degno della cosa pubblica, della res pubblica, oro vos facciatis, dunque vi prego di eleggerlo, di farlo diventare edile e ci sono altri esempi nella stessa casa, è un caso interessante perché ci fa capire come era intrinsecamente intrecciato all'epoca la vita privata nelle case e la vita pubblica e politica.